Come dire? Ma chi sta a stare? Io posso mangiare Magazzino Non dovrei mettere la droga dentro Magazzino della droga Per te Crescent Puttana Il mio Bravo Vedi, con le kinesi può essere il commercio nel futuro Amsterdam Cosa manca la prima città? Come a Morvetto? Eh Vedi, come a questa immaginazione Stai a stare a stare a casa La camera da letto Il lavandino Per avversare bene Qua facciamo la cucina Il frigo Si apre Così? No, difendiamo come a Peroni Oggi faccio un segno da bottiglia Della birra Peroni Peroni Però se ne ho quattro, mi raccomando Si deve vedere però le scale Fino all'1-200 si deve vedere Peroni Allora Provi Vedimi dove Tascada Allora Tascada Fai così Uno bianco E uno rossa Mostra Anche se ne è Allora qua Gli butto uno striscione Fai così Fai vedere la carrucola Il schifino Butta Mari Ah Aspetta 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 Qui Ed Adesso Poi Di Sij Che Si E' Qua sotto Quello Con Il binocchio Che Vede Vede Qua Il binocchio Capisci Il binocchio ahahah ahahah ma